Fanta calcio degli youtuber giornata numero 4 sono contentissimo perché vedo che questi video vi stanno piacendo vi stanno invogliando e siete contenti di vedere i risultati miei e ovviamente di daniele brogna con la nostra squadra piena di sex symbols prima di cominciare però ovviamente passate qui sotto in descrizione scaricate fanta master che è l'applicazione che utilizziamo noi per giocare al fanta calcio degli youtuber per favore qua sotto in descrizione c'è il link scaricatela tutti sui vostri cellulari in modo da poter giocare anche voi volendo con i vostri amici al fanta calcio che è uno dei giochi più belli del mondo e anche più brutti del mondo perché te lo fa odiare a un certo punto ti fa veramente detestare le partite stavamo andando molto molto bene benissimo avevamo schierato anche una formazione ottima per quanto mi riguarda eccola qua questi erano i nostri titolari con sepe teo hernandez devrai romero del genoa bernardeschi il papo gomez che si zielinski dibala dzeko e simeone questa era la formazione che avevamo utilizzato dibala aveva fatto anche molto bene era partito subito con l'assist per cristiano ronaldo e ho esultato tantissimo perché ovviamente intanto berisci aveva parato qualsiasi cosa cristiano ronaldo poi quando dibala e ronaldo interagiscono tra il gol e l'assistio sono sempre felicissimo perché ancora una volta lo torno a dire io sono un bimbo minchia sono un adulatore amo quando vedo la juventus che fa gol ma soprattutto amo quando vedo la juventus che fa gol grazie ai giocatori che preferisco in assoluto il rosa quindi dibala ronaldo sono due giocatori che mi piacciono di più e quando li vedo giocare insieme e già per quanto mi riguarda ma lo sappiamo benissimo l'abbiamo detto mille volte sul canale dico che non sono fatti per giocare insieme almeno solo loro due serve qualcos'altro in più però quando poi succede che effettivamente sono concreti efficaci sono veramente felicissimo peccato che cristiano ronaldo ce l'avevano i nostri avversari quindi il più uno di dibala è stato finalizzato al più tre di ronaldo che ci ha segnato contro questo è un altro discorso gecko che ha risolto una partita complicata per la roma ancora una volta in gol e il cioito semeone invece si è fermato un attimino però va bene ci sta era partito a manetta non possiamo pretendere che faccia gol ogni partita bernardeschi è entrato ha fatto una partita abbastanza anonima ma si è portato a casa al 6 ma soprattutto avevamo ballato come il papu come durante l'asta del fantacalcio ero contentissimo perché la doppietta del papu il gol di gecko l'assist di dibala ho detto qua siamo partiti a manetta anzi addirittura sulla sulla chat del fantacalcio youtuber ho messo la scenetta mia ed i brogna che ballavamo proprio all'asta la papu dance però mi ha detto cancellala subito quindi l'ho cancellata perché poteva portare sfiga questo è ovviamente sabato sera e alla fine la sfiga è rimasta è rimasta perché non siamo riusciti a schierare il modificatore dato che alexandro era tornato in brasile per quel brutto lutto che l'ha colpito infatti il papà è brutto a mancare quindi non riusciva a giocare con la spal e ci siamo mangiati un giocatore che in difesa poteva far comodo in realtà potevamo comunque schierare il modificatore e mettere chiri che per fortuna lo abbiamo fatto perché si è beccato 4 e mezzo la goleata che ha subito lo sassuolo quindi è andata bene così anche il romero non ha fatto il massimo ma soprattutto sepe anzi è diventato titolare perché ancora una volta scesi non ha giocato e quella cosa di non prendere buffon ci ha veramente segnato dovevamo prendere buffon dovevamo prendere buffon investire qualche soldino in più prendere anche buffon che ci ha fregato ma strangelo perché sepe ci è ciucciato due banane ci è preso due gol ha raccolto due volte la palla dal fondo della rete e quindi ci ha portato un malus di due punti nonostante ovviamente abbia preso un ottimo voto che era 6 e mezzo però i due gol subiti pesano pesano tanto perché noi siamo riusciti a fare 75 e mezzo e ovviamente i due gol di sepe da fastidio dirlo è da fastidio dirlo ma i due gol di sepe avrebbero votato a 77 e mezzo e forse con il modificatore di difesa dato che non avremmo messo che sì che ha preso un'insufficienza ha preso 5 avremmo vinto avremmo vinto ovviamente seria un modificatore con alexandro che prendeva un buon voto con la spalla quindi con i secoli ma non si va da nessuna parte però capite che queste scelte quasi obbligate quindi il portiere che c'è stato imposto perché non siamo stati abbastanza coraggiosi da offrire per buffon non abbiamo voluto offrire quei 5 6 crediti invece sarebbero stati essenziali sarebbe stato bellissimo non subire gol con buffon e avessimo avuto alexandro titolare ovviamente qua non possiamo dire niente sono cose che succedono ed è giusto che alexandro fosse in brasile per il funerale del papà però ci ha penalizzato perché noi abbiamo fatto 75 e mezzo ma i nostri avversari hanno fatto 74 e mezzo quindi un 2 a 2 dichiarato io ero veramente convinto di vincere questa giornata e poi è successo di tutto come direbbe gabbo è successo di tutto in quel milan fiorentina che è stato tanto bello quanto poi doloroso quando sono andato a ricordarmi che effettivamente avevo donnarumma contro che ha sì preso tre gol ma ha parato il rigore a chiesa ha parato il rigore a chiesa garantendo un bonus i tre punti ai nostri avversari questi tre punti dato che hanno fatto 74 e mezzo li hanno fatti pareggiare non ci hanno fatti vincere ma non solo perché non doveva succedere solo questo ci arriviamo gulam iso e scrignano una difesa fortissima per quanto mi riguarda che non ha avuto un grosso effetto dato che scrignere iso non hanno giocato bene gulam invece ha preso un 6 e mezzo ottimo rog nandes fabia ruiz anche qua avevo paura di qualche bonus non sono arrivati ma riberi 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 che fa una partita da manicomine abbiamo parato qua sul canale contro il milan e donnarumma che parla il rigore a chiesa sono stati la nostra rovina sono stati la nostra disfatta la nostra caporetto perché i tre punti di donnarumma i tre punti di riberi e va bene i meno tre di donnarumma quindi il bonus di tre ci ha rovinato ovviamente riberi ha preso anche sette e mezzo meritatissimo per la partita che ha fatto ma ci ha rovinato unito a joao pedro e correa che non hanno fatto grandi cose quindi si sono beccati un 6 e a quel famoso gol di cristiano ornaldo con assist del nostro di bala quindi riberi e rigore parato la donnarumma 74 e mezzo e arrivano a pareggiare esattamente 2 a 2 contro di noi anche loro in panchina avevano ansaldi che ha fatto gol avevano linee t che ha fatto assist non gli hanno messi per fortuna perché avremmo potuto addirittura rischiare di andare a perdere una giornata nella quale abbiamo fatto la doppietta del papo abbiamo fatto il gol di djeko abbiamo fatto l'assist di male ma purtroppo non avevamo gigi buffoni in porta e ci è toccato arrenderci e lasciare altri due punti per strada che possono diventare molto molto importanti dato che comunque la classifica è questa ss fazio 8 quindi si torna a volare nonostante il calciopoli che l'ha coinvolto direttamente e gli ha tolto dei punti tra l'altro giocava contro gli ultimi scontro diretto gli ultimi hanno perso rimangono a 7 e ha soltanto una lunghezza da noi che abbiamo guadagnato un punto quindi abbiamo guadagnato esatto non abbiamo guadagnato posizioni ma abbiamo rosicato un pochino di distanza anzi risicato un pochino di distanza da quella che era la capolista effettiva e che adesso in realtà è la seconda in classifica a livello di punti non andiamo male perché siamo comunque secondi ancora nella classifica generale abbiamo fatto 297 e mezzo sicul che prima ha fatto 301 e mezzo sono molto contento ma ancora una volta da questi dati si vede come effettivamente giocare con una difesa 4 ti dà dei benefici il modificatore è un valore aggiunto che ti riesce a portare poi punti che si quanta punti a livello di proprio più 3 più 1 più 2 quindi i voti sommati tanti bonus che poi si traducono in punti effettivi in classifica e se si col fe primo sicuramente non è un caso ma ha sempre giocato con la difesa 4 ha sempre beccato i giocatori che facevano punti con il modificatore e comunque davanti a una buona squadra che sta dando i suoi frutti e che quindi in questo momento lo vede giustamente per quanto mi riguarda al primo posto noi siamo stati stupidi in fase d'asta non prendere buffon questo ci ha penalizzato ma per il resto direi che la nostra squadra è molto forte abbiamo sbagliato forse un paio di robe in difesa dato che ho dato garanzie ho sopravvalutato alcuni giocatori che in realtà non stanno rendendo come dovevano sulla carta ci arriveremo c'è un mercato di riparazione davanti è soltanto la quarta giornata sicuramente la squadra sta andando molto bene ma quel miram fiorentina con riberia e donna rumma ci ha completamente rovinati nonostante la papu dance che voglio ballare qui insieme a voi con la maglia dei brailles daniele perdonami ci ho fatto questo ballettino molto molto imbarazzante ma soprattutto perdonami se l'altra sera ho messo la foto la foto la foto del papu nostra in cui ballavamo convinto di aver vinto cosa che effettivamente non è accaduta non è accaduta non è accaduta Grazie a tutti.